Processioni, veglie e funzioni religiose, tutto nel segno della tradizione e dell'identità. A Sassari si rinnova l'appuntamento con i riti della Settimana Santa, che prenderanno il via venerdì 8 aprile e accompagneranno i fedeli fino alla Pasqua. I riti della Settimana Santa derivano dalle tradizioni religiose iberiche e rappresentano un'eredità della presenza spagnola nel capoluogo turritano durata quattro secoli. A organizzare in collaborazione con l'Arcidiocesi il calendario degli appuntamenti, pubblicato sul sito del Comune, sono le arci confraternite cittadine di antichissime origini, Santa Croce del Gonfalone, dell'Orazione Morte, dei Servi di Maria, del Santissimo Sacramento e dei Santissimi Misteri. I riti con le adorazioni, le cerimonie e i cortei che attraversano il centro storico creano in città un'atmosfera di grande suggestione. Per il riconoscimento dei riti della Settimana Santa come patrimonio culturale e materiale dell'umanità dell'UNESCO del 2017 il Comune di Sassari, insieme ad altre 25 città italiane, tra cui Alghero e Castelsardo, ha sottoscritto un protocollo d'intesa promosso dall'Associazione Europassione per l'Italia. Per la città di Sassari, che ha già ottenuto l'assegnazione per la discesa dei candelieri, sarebbe un ulteriore passo in avanti per la salvaguardia, la valorizzazione e la promozione delle specificità culturali del territorio. Le suggestioni della Settimana Santa sono raccontate anche nella sezione Sacro e Profano del Museo della Città, a Palazzo di Città, dove è possibile ammirare l'opera La processione dei misteri di Eugenio Tavolara del 1928.